Gli americani, come godarsi, aggai? Non puoi navigare, non puoi nasconderti da me. Bene, capito? La gente non scompare, cercate. Non puoi essere andato lontano. Siamo dei morti. Ehi, se è caldo, se trovate caldo, sparatevi. Ehi, se è caldo, sparatevi. Siamo dei morti. Vieni a Shogat Vattene uscire Che buffo, Ajai Quando sei arrivato pensavo che avremmo fatto le pulizie insieme La polvere sugli scaffali, i ribelli da uccidere Al Kirat servono le pulizie di primavera Via, la roba vecchia, eccetera, eccetera Fare lavoro sporco per qualcun altro non ti si addice, ragazzo mio Perché credi che Amita e Saval ti facciano la curte? Hanno paura di te, Ajai E fanno bene Ajai, namaste Ce ne erano troppi, cosa potevano fare? Non sta bene, non sta bene Non è vero, non è vero 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 Gli animali hanno fame Non spregatelo Bertha Devi uccidere subito Paul Devi farlo adesso Sta andando a casa Se lo uccidi e riaprò la mia famiglia Te li darò tutti Yuma Pagan Ti darò le loro tette Va tutto bene Non sono tranquilla Alla mia famiglia Come faccio secondo te? Devi salvarli Devi salvarli Paul sta organizzando una festa di addio giù al complesso Lì sarà vulnerabile Gli piace farsi portare la carne da un villaggio vicino Questa è la tua occasione Una volta dentro Entra nella sala degli interrogatori Lì è vulnerabile Vuoi entrare nell'arena? Vabbè Guardami Non sono sicura Agiai hai trovato la mia famiglia Non ancora Sto andando adesso Ok Senti Non devi farti scoprire È importante Pole come un topo E i topi abbandonano sempre le navi che affondano Non deve sospettare nulla fino all'ultimo Ricordati Agai Sta dando una festa Quindi scopri dove rapisce la sua carne fresca E infiltrati con i prigionieri E non sei morto Ora che facciamo? Lo siamo a faccia Barbagliatevi e trovate incolpevole Bene Occhi aperti Ehi Non so che sei ancora lì Non so che sei ancora lì Non arretriamo Corro 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 Uccidete le femmelle! Combattete! È la nostra occasione! Non ho nulla. Sono i soliti giochetti dei ribelli. Non ho nulla. Ehi! Ma sa che c'è il giro. Abbiamo una direzione. Ora trovatelo! Occhi aperti. Occhi aperti. Occhi aperti. Occhi aperti. Occhi aperti sui camion e caricheranno i nostri... Occhi aperti. Occhi aperti.